John Bourne ragazzi, John Bourne e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel mercato che farei del Milan ragazzi, benvenuti. Allora, allora, vi ricordo prima di iniziare che sono già usciti diversi mercati che farei, quindi si parla di Inter, Juve, Roma, Napoli, se non sbaglio questi quattro. Se volete mercati che farei anche di Lazio, Fiorentina, Bologna e poi continuare, vi chiedo sotto questo video 3500 mi piace per supportare il mercato che farei. Ovviamente se questi like non arrivano mi fermo perché come sapete a gennaio li faccio sempre molto livellati, non li faccio mai tutti a differenza di giugno perché le mosse da fare sono poche e poi il mercato dura molto molto poco. Detto questo partiamo subito con il mercato che farei io del Milan. Purtroppo devo sempre fare questa premessa, ma raga non capite mai, cioè poi arriverà qui sotto quello che mi scriverà, ma il Milan non hai capito niente, il Milan ha preso Terracciano, il Milan ha venduto Krunic, ma a me non me ne frega niente. Cioè questo non è il mercato che fareste voi, è il mercato che farei io in quanto tale, se io Krunic me lo voglio tenere, me lo tengo, se io Terracciano non lo voglio prendere, non lo prendo. Cioè sta cosa, se io Gabbio non lo voglio richiamare, non lo richiamo. Questa cosa ve la dovete mettere in testa, fino a che non ve la mettete in testa non c'è niente che vada per il verso giusto. Quindi questo è il mercato che farei io. Detto questo partiamo subito e andiamo a vedere immediatamente il mercato che farei io. Ho deciso di partire con 15 milioni di euro di budget, posto poi che il Milan questi 15 milioni possa spenderli. Mi auguro di sì, se non li può spendere, va bene uguale, tanto insomma è una serie abbastanza fantasiosa che facciamo per divertirci e vi dico io come mi muoverei se fossi il direttore sportivo del Milan. Importa il Milan ha Maignan, Sportiello, Mirante e Nava. Allora, partendo da questo presupposto qua, vi dico che la soluzione è abbastanza semplice, ovvero non fare nulla. Nel senso che lo scorso anno il Milan ha cercato per tanto tempo un vice di Maignan. Non l'aveva trovato, aveva preso Mirante, aveva preso Tatarusano, aveva preso una barca di portieri, aveva preso anche un altro, mi pare Jungdal, ma che ora è in B se non sbaglio. Ma comunque questo portiere non lo trovava mai, ok? Questo vice di Maignan. Quest'anno, grosso modo, diciamo che sembra averlo trovato e sembra averlo trovato in Sportiello. È chiaro come se dobbiamo parlare di Maignan, Maignan sta qua e Sportiello sta qua. Perché sì, perché Maignan è tra i migliori portieri del mondo, mentre Sportiello è un ottimo secondo. Però il fatto che il Milan abbia trovato un ottimo secondo, a mio avviso, permette ai rossoneri di pensare ad altri ruoli, di lavorare su altri ruoli e di non focalizzarsi troppo su quello che poi realisticamente sarebbe il ruolo su cui non c'è da lavorare. Io mi tengo Sportiello come secondo, Mirante come terzo, Nava come quarto, insomma lì poi fate voi, lì poi ci penseremo a giugno. Però vi dico che a giugno, a differenza di tante altre squadre di cui ho parlato e per cui ho scelto di non cambiare il portiere perché non c'è emergenza, però di cambiarlo magari a giugno prendendo altre decisioni, ecco, qua la situazione secondo me è realisticamente diversa. Cioè per me qui non c'è l'ansia di dover necessariamente andare a prendere un vice di Maignan a giugno, per me con Sportiello e il Milan il vice di Maignan l'ha trovato. Quindi con Maignan, con Sportiello, con Mirante, con Nava e con il bilancio, anzi il budget, ma il bilancio dai a 15 milioni di euro, anche se il bilancio è un'altra cosa, va dai difensori centrali. Per quanto riguarda i difensori centrali, il Milan ha Tomori, Ciao, Calu, Lukier, Pellegrino e Caldara. La cosa che mi fa sorridere è che se io vedessi questa difesa in una situazione tranquilla, direi che deve fare il Milan? Niente, niente, assolutamente niente. Eppure il Milan deve lavorare tanto qua, deve lavorare tanto tra i difensori, cioè tanto, deve lavorare il giusto, ma deve rinforzarsi lo stesso perché per un allineamento negativo di astri, tutti i difensori si sono rotti. Chi per un trauma cranico, chi per un problema muscolare, chi per una contusione, stanno tutti rotti. Ora, io tra questi vedo titolari Tomori e Ciao, poi ognuno vedrà titolare quello che gli pare. Mentre vedo come ottimo Panchinaro Calulu e vedo come Panchinaro anche Kier. Pellegrino è rotto, è un giovane, me lo tengo. Vado invece, se riesco, a fare un milione da Caldara, a cedere Caldara per un milione di euro. Magari ci cascano, magari qualcuno un milione me lo dà. Alla fine si tratta di un milione, non si tratta di chissà che soldi. Qualcosa dovevo mettere a budget, a bilancio, metto un milione, però vediamo se qualcuno mi dà quella cifra. E qua, secondo me, il Milan si deve rinforzare. Ora, vi vado a dire chi prenderei. Questo è il primo vero acquisto. Allora, posto che il Milan ha richiamato Gabbia, io non l'ho inserito, ma penso che se il Milan vuole richiamare Gabbia e vuole tenere Gabbia per allungare il parco difensori centrali, lo può fare. Ha avuto talmente tanti problemi tra i difensori che chi più ne ha più ne metta è meglio avere un numero sostanzioso di difensori centrali rispetto che non averne. Perché in questo momento il Milan veramente ha un problema come difensori. Quindi se vuole richiamare Gabbia, che lo richiamasse, l'ha richiamato effettivamente, io posso approvare anche la mossa. Non l'ho calcolato, ma posso approvare anche la mossa, anche perché è un ritorno da un prestito, è un parametro zero a livello di spesa. Non è un parametro zero perché era già tuo. Però io qua un acquisto l'andrei a fare. E andrei ad investire dei soldi su un giocatore che, secondo me, potrebbe garantirti anche una futuribilità nella titolarità. Infatti vado ad investire 10 milioni di euro cash, che poi è la cifra che vale su Transfermarkt. Quindi diciamo che ci siamo. Non so se magari l'Udinese, ve l'ho spoilerato, vuole qualcosina in più. Magari con i bonus ci si può arrivare. Con questi 10 milioni di euro vado a prendermi Neuen Perez, Neuen Perez, come diamine si chiama. Perché vado a prendere lui? Innanzitutto perché a me piace tanto. È un ottimo difensore. È capace a giocare sia a 4 che a 3. È un giocatore molto duttile. È un giocatore che ha una discreta esperienza. Ha giocato in passato anche all'Atletico Madrid. Sa bene o male guidare la difesa. Quindi si parla comunque di un giocatore forte, di un giocatore che sa anche essere protagonista. Ricordiamo che quando il Milan ha deciso di prendere determinati giocatori, Tomori era panchinarissimo. Giovane panchinarissimo del Chelsea. Ciao veniva dalla Germania ma non giocava mai. Calulu era sconosciuto. C'è tutti quelli che il Milan ha in questo momento. Kier era a fine carriera già al tempo. Invece guardate poi che upgrade che ha avuto. Cioè per questo vi dico che secondo me tutti questi calciatori che sono poi diventati centrali nel Milan sono arrivati per qualche spiccio. Tomori no. Qualche soldo è stato speso per Tomori. Ciao per qualche spiccio. Calulu per qualche spiccio. Kier per qualche spiccio. Pellegrino manco so quanto l'hanno pagato. Però Neuen Perez potrebbe insomma ripercorrere quelle orme là. 10 milioni non sono tanti. Ma prenderesti un giocatore che è già pronto perché conosce la Serie A. conosce il nostro campionato. Sa come si gioca e tutto quanto. E soprattutto sarebbe in linea perfettamente con il Moneyball. Perché c'ha 23 anni. Perché realisticamente è un ragazzino. Quindi non avresti nemmeno il problema di dover giustificare il fatto. Dal mio punto di vista almeno in questo video che non è una mossa da Milan. Perché sarebbe una mossa perfettamente da Milan. E quindi in difesa avremmo Tomori, Ciao, Calulu, Neuen Perez, Kier, Pellegrino. E il bilancio in attivo di 6 milioni di euro. Così passiamo ai terzini di destra. Ecco, allora, qui a destra il Milan. Avverto che il Milan per me deve migliorare soprattutto dietro. Poi se ne parlerà più avanti a giugno. Poi ne parleremo di ruolo in ruolo. Però il Milan deve soprattutto calcare la mano dietro. A destra il Milan ha Calabria e Florenzi. Ora a me Calabria, nonostante sia il capitano del Milan, chi mi segue lo sa. Poi questi sono gusti, eh. Cioè ognuno pensa quello che gli pare. A me Calabria non ha mai fatto impazzire. Io credo anzi che Calabria sia stato sempre uno dei meno, uno dei meno forti del Milan, della squadra del Milan, della rosa del Milan. Penso che il Milan avrebbe potuto avere molto di meglio, specie come capitano, piuttosto che Calabria. Però ripeto, questi sono i miei due centesimi. Quindi Florenzi è lì, quando gioca ci mette il cuore. Però, regà, Florenzi è sempre rotto. Cioè, pensare che il Milan debba prendere Florenzi, che è sempre rotto, per me è una cosa che non sta in piedi. Cioè, tenere Florenzi. Io Florenzi lo tengo al momento, però non puoi avere Florenzi come primo panchinaro sulla destra, con tutti i problemi fisici che il Milan sta affrontando. Quindi io Florenzi me lo tengo. Ma non prenderei Terracciano. Poi, se il Milan vuole prendere Terracciano, l'ha preso, lo vuole prestare, lo vuole far crescere, eccetera, va bene. Ma io avrei fatto un calciomercato sicuramente più esperto e alla Milan, per cercare di andare avanti in più competizioni possibili. Ora, la Coppa Italia, il Milan è uscito con l'Atalanta, però in Europa League ci giocherà. Il campionato deve giocarlo, tutto gli gironi è di ritorno. Quindi, insomma, io qua andrei a fare un investimento, che poi non è un investimento economico, perché lo andrei a prendere in prestito, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Una cifra bassa per un giocatore che ti arriverebbe senza pagare un euro, però non gioca mai a Parigi. Sto parlando di Muchiele. Muchiele a me piace tantissimo. Al tempo, adesso si parla addirittura che possa tornare in Germania. Forse sponda Bayern Monaco, se non sbaglio, addirittura. Quando giocava, se non erro, all'Ipsia, era un giocatore clamoroso. Ma il Paris Saint-Germain non vede il campo, nemmeno se paga, nemmeno se rifiuta lo stipendio. Gli fanno vedere il campo a Muchiele. Che per me, invece, se gli è data la giusta possibilità, se gli viene concesso il giusto minutaggio, può, con grande tranquillità, diventare più che titolare in questo Milan. Più che titolare. Può scavalcare tranquillamente. E Florenzi, che per me lo scavalca già nel momento in cui viene acquistato, ma anche Calabria. Per questo, questo è un acquisto che andrei a fare, perché potrebbe rafforzare enormemente il Milan. Andrebbe a rafforzare enormemente la fascia destra. E in prospettiva, avendo comunque lui 26 anni, cioè quindi un colpo anche alla Loftus-Cic sotto sto punto di vista, andresti a prendere un giocatore a prezzo di saldo, perché poi eventualmente lo riscatti a giugno pagando 10 milioni, perché volete mettere 10, 12, 15, fate voi. Però avresti forse un terzino destro che ti farebbe il titolare. Quindi sulla destra avremmo Calabria, Muchiele, Florenzi e il bilancio inattivo di 6 milioni di euro. Andiamo a vedere adesso i terzini sinistri. Sulla sinistra il Milan ha un problema. Il problema è che c'è solo Teo Hernandez. In realtà il Milan ha lanciato anche qualche ragazzino. Sta giocando con continuità Gimenez. E io vi dico una cosa. Gimenez è un bonus track in questo mio mercato che farei. Cioè io non l'ho messo, perché? Perché secondo me il Milan se vuole ambire a vincere l'Europa League e ad arrivare più in alto possibile in campionato, deve allungare la rosa avendo almeno un altro terzino sulla sinistra. Che sia un terzino anche pacco, che sia un terzino esperto, che lo metti lì, sta zitto, fa il suo, non deve fare niente di eccezionale, ma fa rifiatare Teo Hernandez e gioca sulla sinistra quando Teo viene, nel caso, adattato a difensore centrale. Poi ripeto, che il Milan, che voi vogliate aggregare Gimenez in prima squadra, in pianta stabile, visto che il Milan ha tanti giovani, e io tutti questi giovani da Gimenez, passando per Bartesaghi, eccetera, Simic, non li ho inseriti proprio perché non voglio mettere pressione inutile. Poi da giugno si valuterà se inserirli attivamente in prima squadra o meno, proprio come parte integrante della rosa e titolare, vice titolare, eccetera. Allora quella lì la valla passa a voi. Detto questo, io qua farei un investimento sicuramente a perdere, investirei 3 milioni di euro, una cifra veramente misera, una cifra veramente tutt'altro che profumata, e andrei a spendere questi 3 milioni di euro per prendermi Leonardo Spinazzola dalla Roma. Ora, a me da romanista io ne la faccio più a vederlo, ma semplicemente perché si pensa che Spinazzola debba essere, ed effettivamente sulla carta lo è, il miglior terzino della Roma, invece non azzecca un cross manco a pagarlo. Però, visto che a giugno va a scadenza a parametro zero, e tu potresti prenderlo pagandolo 3 milioni, ma io ho detto 3 milioni perché abbiamo il budget, se volete pagarlo 2, se volete pagarlo 1, se volete prenderlo in qualche modo, fate voi, cioè a me non mi interessa questa cosa, a me questa cosa non interessa affatto. Però, ritengo che Spinazzola, pagandolo 3 milioni di euro adesso, un po' come appunto ha fatto la Juventus, prendendo appunto il difensore che gli permetterà, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me, da questo punto di vista, avere Spinazzola come vice di Teo Hernandez ti darebbe un po' più sicurezza, no? Cioè, tu avresti un giocatore che è esperto, che ha fatto la Roma, che ha fatto la Juve, che sa comunque giocare a determinati ritmi. Poi, ripeto, sicuramente quando si parla di Spinazzola si deve mettere in conto tutto, i vari infortuni che ha avuto, anche se adesso è un bel po' che non si fa male, è semplicemente fuori dal progetto, e anche il fatto che a crossare non sia top. Però poi, ti ripeto, dipende il gioco che fai, e poi come panchinaro di Teo Hernandez, cioè io se mi dicessero Spinazzola ce l'hai alla Roma come panchinaro di Teo Hernandez, io firmerei. Se Spinazzola deve avercelo come super titolare, e a Roma lui vuole fare il super titolare, allora no, la porta è quella lì. Detto questo, questo investimento lo andrei a fare io, e sulla sinistra il Milan avrebbe Teo Hernandez, Spinazzola, e il bilancio a 3 milioni di euro. Detto questo, vi faccio vedere invece i centrocampisti. In mezzo al campo il Milan c'ha un botto, un bordello di gente. Ben Nasser, Loftus-Cic, Reinders, Musa, Krunic, Pobega e Adli. Allora, ora Ben Nasser, che poi se non sbaglio è già partito per la Coppa d'Africa, è tornato in pianta stabile e sarà il titolare del Milan, assieme a Loftus-Cic e a Reinders. Musa, che per me è un ottimo calciatore, c'ha 20 anni, gli si deve dare un'opportunità. Io me lo tengo volentieri nel giro delle rotazioni. Pobega e Adli sono discorsi rimandati a giugno, cioè andare a sfoltire una rosa, quando tu potenzialmente, se hai come obiettivo quello di vincere l'Europa League, devi fare ancora due partite di play-off, due degli ottavi sono quattro, due dei quarti sono sei, due delle semifinali sono otto e la finale sono nove, più altre 19 partite di campionato, quindi ti rimangono 28 partite in quattro mesi, io personalmente, pobega e Adli, me li tengo. Ora, c'è da dire un'altra cosa, il Milan, proprio oggi, ha ceduto Krunic ufficialmente al Fenerbace. Vi dico la verità, io non l'avrei ceduto e io non lo cedo Krunic. Poi i milanisti non saranno d'accordo, forse era Krunic che voleva andarsene e io non sono abbastanza informato, sono tutte possibilità, tutte grandi possibilità, però, se devo essere sincero, vi dico che per me Krunic al Milan era un discreto, un ottimo mestierante, cioè uno di quelli che non ti chiede la luna, che tu lo metti lì e lì sta, che tu lo metti mezzalla fa la mezzalla, che tu lo metti mediano fa il mediano, che tu lo metti trequartista fa il trequartista. Nella prima parte di stagione sembrava che Krunic potessi essere centralissimo in questo Milan, addirittura io dicevo nei video, raga, quando torna a Benazer voglio vedere Krunic come lo smuovi, ora addirittura è andato via. Io vi dico la verità, cioè il Milan per me i soldi per investire su un centrocampista forte non ce li ha, avrebbe i soldi per investire su un paracarro che al momento blocca, soprattutto con tutte queste mosse che sto facendo, noi non li abbiamo adesso, abbiamo tre milioni, quindi il Milan prenderebbe un altro Krunic, tanto vale tendermi Krunic. Poi a giugno avrei fatto altre scelte e io vi dico a giugno farei altre scelte, cioè a giugno che innanzitutto metterrei i primi quattro, Benazerlo, Tucic, Reinders e Musa, poi venderei probabilmente Krunic, capirei che fare con Pobegadli, prenderei Ferguson ed è un investimento che va fatto, Lewis Ferguson del Bologna, che oggi il Bologna chiede 20, 25, 30 milioni di euro e non puoi permetterti di fare una spesa di questo tipo, però a giugno se c'è possibilità che il Milan va in Champions e per me ci andrà a spasso visto come sta giocando e come i risultati sta ottenendo, lo farei. E quindi vi dico, per me non c'è storia, cioè io sarei rimasto così con Benazerlo, Tucic, Reinders, Musa, Krunic, Pobegadli e il bilancio in attivo dietro. 3 milioni di euro, vi faccio vedere le ali. Per quanto riguarda le fasce il Milan ha, Leao, Pulisic, Cucueze, Okafor, Romero e Chaka Traoré. Ecco, l'unico giovane commesso è Chaka Traoré, ma semplicemente per fare un discorso di titolari, panchinari e riserve. Io penso che anche qui il Milan si è messo bene, Leao e Pulisic sono i due titolari, Cucueze ed Okafor, che Okafor può giocare anche davanti, sono i due panchinari rispettivi con Cucueze, che ovviamente è un gran passo in avanti rispetto che Okafor, sebbene per me, sulla carta, un pochino, poi ognuno la pensa come preferisce, Cucueze sta deludendo, Romero e Chaka Traoré sono i due giovani che magari a giugno posso anche pensare di prestare perché non hanno spazio in una rosa ipotetica e è meglio che Romero va a farsi le ossa al Frosinone, è meglio che Chaka Traoré va a farsi le ossa, magari che ne so, al Monza, o che quale squadra vogliate voi, o il Genoa, o la Salernitano, quel che è. Però oggi, che mi mancano così tante partite, che il Milano ha così tanti problemi fisici, io, Romero e Chaka Traoré, non li vado a prestare, ma così come, ve l'ho detto, non li ho messi, ma non presto Bartesaghi, non presto Simic, non presto Gimenez, tutta gente che, nel caso in cui servisse, li faccio giocare. Quindi, sulle fasce avremo Leao, Pulisic, Cucueze, Okafor, Romero, Chaka Traoré, il mio bilancio in attivo a 3 milioni di euro e ce ne andiamo tra le punte. In attacco il Milano a Giroud e Jovic. Io qua un colpo lo farei, vi dico la verità, abbiamo solo 3 milioni di euro e, in realtà, è un contributo economico che potrebbe bastare. Perché? Perché, a giugno, Anthony Martial, dal Manchester United, si svincola ufficialmente a parametro zero. Ha già comunicato che andrà via e che non rinnoverà il suo contratto. Ora, se ho possibilità di dare 3-3 spicci, che poi, se voi pensate che Spinazzola non se può pure non prende, gliene volete da 6, se voi pensate che i soldi che ho dato a New and Perez siano troppi e gliene volete da di più, fate voi. O se volete aggiungere qualche soldo, fate voi. Però io penso che il Milan, visto che va a parametro zero a giugno, dovrebbe andare a prendere Martial. È chiaro, c'è anche l'Inter tra le altre cose su Martial, è chiaro come è un investimento difficile, perché comunque è un giocatore che fece benissimo, ma che si è perso enormemente. Però, giocatori così forti, io so sempre tentare di dare una nuova occasione, e visto che Giroud ha 40 anni, e che Jovic ora ha iniziato a segnare, ma non lo vedo come titolare nel Milan, io penso che un giocatore come Martial, in questo attacco, potrebbe fare tanto comodo al Milan, e quindi lo vado a prendere. E quindi mi formo Giroud, Martial e Jovic, e il bilancio a zero. Vi faccio vedere la formazione che ho costruito per questo Milan. Magnan in porta con Mirante in panchina, in realtà ho messo Mirante, ma è Sportialo il vice di Magnan. Tomori, ciao, con Noiem Perez e Kalulu, quindi abbiamo già dato una forma alla difesa un po' migliore. Calabria e Teo, ma anche Muchiele e anche Spinazzola. Mi auguro che Muchiele possa fare il titolare presto al posto di Calabria. In questo caso, se tu ti manca un difensore, vai mettere Teo centrale, metti Teo centrale, Spinazzola lo fa giocare il titolare. Muchiele può giocare anche sull'altra fascia. Loftus, Bennazeri in mediana, Reinders, con Pobega Wadli, Krunic e Musa, davanti Girupunta, Omarsial, Leao e Pulisic, Ciuquezze e Okafor. Per me questo Milan sarebbe molto, molto forte. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio, tantissimi mi piace. Buonasera alla lenne come sempre. Ci vediamo al prossimo video.